Buongiorno ragazzi, bentornati, bentornati tutti quanti col tablerone Tommy e Mr. Rip Ho fatto un errore già, ho visto che l'ho messo, scusate, tablerone podcast Eccoci qua, ma Tommy? 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 Basta con ste gag, dai hanno rotto i coglioni Hanno rotto i coglioni, che so, dai, stai pur... ma, 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 ma non si fa... Cos'è sta storia che prendi altri ospiti prima di me, mi metti più tardi in programmazione? Tense parole Fatte ricazzi tu qua, tra me e il tablerone, c'è una cosa che si chiama mutuo, ok? Ma stai in Svizzera, quale mutuo? Ce l'ho io e mutuo, mica te Devi stare mutuo, devi stare mutuo Ciao Tommy, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti Bentornati sul tablerone podcast con Mr. Rip e Tommaso Di Stefano Di cui affrontiamo temi di tech, mondo tech, tech news e HGPT E gag E gag, e gag, molto gag Cosa prevede il menu di oggi? Il menu di oggi, come al solito, prevede, beh, tanta roba AI Quello penso che sia ormai, insomma, non c'è scampo, non c'è scampo Non c'è tablerone senza AI, mannaggia Ma è il nostro modo per restare aggiornato su queste cose Sì, sì, esattamente, esattamente Perché poi se uno non si aggiorna rischia di rimanere indietro, no? Pensiamo a tutti quelli che lavorano in ambito grafico Le persone che fanno lavori creativi Cioè è chiaro che ci sia un impatto enorme sul loro lavoro Adesso, non so, per esempio, Matt, che cosa ne pensa del tema Lui, il tuo editor, magari conosce un po' meglio questo mondo Però, insomma, è da un po' che non ci parli in realtà con lui No, è che, sai Tommi, stiamo un po' in ristrettezze economiche E abbiamo, ho detto, cioè, tanto ormai i video si editano da soli Cioè, Matt, purtroppo, è un peccato, era bravo Molto bravo, si starà seguendo Voglio dirgli che va tutto bene, Matt Però, no, è che, se non sbaglio C'era una startup che stava lanciando un prodotto per fare cose alternative Tipo, tu gli dai un input e ti crea il video Quindi a questo punto a che serve? A che serve? Ma scusa, ma non c'è almeno una persona che controlla? Mario, che ti controlla i video? No, ma vedo che funziona, va tutto quanto bene da solo Vedo che stai, hai qualcosa da condividere, Tommi? Si chiama Google, questa Si, si chiama Google Google Vits Ragazzi, questo è il futuro Guarda Così Vai Beh, gli lanci una presentazione Fai lo stile Guarda, vai Scrive pure lo script di video E ora, dagli una voce AI Fatto E si risparmia E si risparmia E si risparmia I commenti sono molto interessanti Fatti vedere tutti i commenti di gente che è entusiasta Sì, 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 gente che è entusiasta immagino Diamo un po' Allora Has the discontinuation date been announced yet? Questo è il commento migliore Dopo l'ho pinnato loro Google nel 2027 Comunque questo ha 355 like Quello che si sono pinnato Ma i top 3 commenti Il terzo è Google Vits Sembra come un nome che non è destinato alla graveyard of anything Oh ragazzi, ma a me Google è diventato un meme È diventato un meme Il primo commento Questo è il primo commento serio Serio E dopo tre che dicono che verrà cancellato Peccato Quindi Matt, purtroppo ti tocca ancora lavorare Però è interessante In realtà sveliamo in retroscena Questo è un prodotto che è stato annunciato un po' di tempo fa Ne volevamo parlare settimana scorsa Non trovavamo il nome E questo è perché Matt Ha nascosto sotto il tappeto Qualsiasi informazione relativa a Google Vits C'era un blocco sul computer di Giorgio L'onda sta arrivando per voi editor Per voi editor che ci tenete così per la gola Arriveranno questi tool automatici Cominceremo a usarlo al posto di casellante Come termine Esatto Esatto Però hai detto una cosa prima Cioè all'interno del video Tu fai creare il video E poi gli dai una voce Beh tu puoi Prendere delle slide Aggiungergli un prompt Dagli una voce Certo le voci sono quelle delle AI Sono quelle che vengono un po' robotizzate Potresti dargli però una voce un po' più carina Una voce di un personaggio famoso Però devi stare attento Sennò rischi di danneggiare qualcuno Qualcuno o qualcosa Non lo so Vabbè ma qual è il massimo che può succedere? Che gli dai la voce Esce la voce mia Io posso arrabbiarmi E quindi dire no Sta roba non va bene Faccio causa a Google Che ne so Che può succedere di peggio? Non lo so Scarlett Johansson ha detto di no Però OpenAI ha creato comunque La voce identica Con la sua voce Ma in maniera proprio esplicita? No ovviamente Ovviamente no Anche perché Scarlett Johansson Non so se già l'ha fatto O si è semplicemente minacciato Ma ha detto che denuncerà OpenAI Per questa cosa Ma è fantastica Ma io non la sapevo neanche Ma scopriamo che Scarlett Johansson O Johansson o Johansson Come si dice? Scarlett Johansson Secondo me Sì Ognuno lo decide Ognuno lo decide Per noi è Scarlett Scarlett Magari scopriamo che la voce è media Ci si prende tutte le persone del mondo E compressi la voce La sua voce è la media Sarebbe interessante Sì anche a livello estetico Mi sembra la media dell'essere umano Mi sembra proprio la donna media per eccellenza Lei no? Sì Sì La ragazza della porta accanto Esatto Mi sembra Ok E tra l'altro è divertente Perché lei era l'attrice Che ha dato la voce A A Herr Al personaggio del film di Herr Quindi chiaramente C'era un Un chedi distopico All'interno del Fantastico Fantastico Buonasera Pastelloni Buonasera Buonasera E sì Quindi fondamentalmente Adesso ci sarà questa Aspra di Diattriba legale Probabilmente Magari verrà risolta In In altro modo Fammi provare a riflettere un pochino Che la notizia è questa qua Che Scarlett Johansson Si sta arrabbiando Con OpenAI Forse scaderà Scaderà qualche diattriba legale Sul fatto che la voce Assomiglia alla sua Eerly similar to mine Spaventosamente simile alla mia Adesso quindi Come funzionerà Nel senso che Tutte le voci AI Generate Dovranno essere tipo This voice does not exist E dovranno essere A distanza tale Da non denuncia Da qualunque voce Registrata Non è facile Eh no Perché se lo fai bene Assomiglieranno sempre Alla voce di qualcuno Eh come fai A non assomigliare alla voce Di una persona Se Se sei nello spettro Delle possibili voci Eh forse Il Cioè questo caso È un po' assurdo Perché È estremamente chiaro Quello che loro In un certo senso Vogliono fare no Cioè non solo L'avevano già contattata Ma in più Lei è stata la voce Del film Hair Che è L'esemplificazione Del Del AGI Che è quello Verso cui stanno lavorando Mi sembra un po' Un po' troppo ecco L'avessero fatto con Non lo so Timothee Chalamet Che magari è una voce Meno riconoscibile Oddio forse Eh vabbè Eh Magari non sarebbe successo Non lo so Ok Però ecco Penso la discriminante sia Sei un personaggio famoso Oppure no Perché se Chiaro Chiaro Se decidono di farlo Con la voce media E la voce media È uguale alla mia Chiaro 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 Adesso fanno che so Con la voce di Shy Ad esempio Ah no Figurati che succede Sì 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 Comunque potrà comprare Una Ferrari In soli tre mesi Un nuovo progetto Di Piero Ferrari Ha già aiutato A guadagnare Più di 20.000 famiglie italiane Più di mille partecipanti Sono diventati I proprietari Di nuove Ferrari Ah bello Mi sono entrato al progetto Una settimana fa E oggi condividerò con voi I risultati Dei miei sette giorni Di partecipazione Beh pensavo lui fosse Più fan delle moto Però vabbè Se gli piacciono Le Ferrari Ragazzi Ovviamente Questo non è Shy Questo è un deep fake Con la voce di Shy Che invita A fare una Una cosa agghiacciante A investire in un progetto Criptomerda Ragazzi Però sta roba qui È pericolosa Cioè se non Se non impariamo Per bene A distinguere Il vero dal falso Sta roba È agghiacciante Ha avuto problemi C'è anche un certo match Con le labbra Che lui Ha avuto problemi Con questa cosa Già da anni Cioè me la ricordo Da 4-5 anni fa Questa storia Sì Poi forse adesso È diventata ancora migliore Come simulazione Però oggi Vanno molto vicino Cioè tu stesso Già in passato C'erano gli articoli Ecco forse non erano video Ma erano articoli In cui veniva detto Tipo Come questo Giovane Sardo Sta guadagnando 500.000 euro al mese Con la sua foto Ok Era una cosa È molto poco AI Quello lì era un po' Uno scam Vediamo Confermerà lui Confermerà lui Sì Qui c'è chi dice C'è chi dice Prima non c'è la sua voce L'articoli fake C'è quindi Emanuele Atti Monelli Ci dice che la voce Ha un x per cento Esiste quindi Una misura Di correlazione Di voce Di qualcuno Con una voce fake Perché Se no fra un po' Diventa Questo è Forse È ciò che mi spaventa Di più In ambito AI Voice Generation Cioè che fra un po' Veramente Sarà Difficile Dimostrare Che tu non hai fatto Un'affermazione Se c'è un Messaggio vocale Di questo tipo qua Sarà molto difficile Sì Sì Sarà Eh si torna Al discorso Del Magari Non possiamo avere Delle black box Al cento per cento Per stabilire Se c'è stata Un'azione malevola Dietro Qualcosa Oppure no In ambito AI Perché altrimenti Non saprei mai Se è stato fatto Di proposito O se è stato Il caso Che Ha voluto Far uscire X dal cappello Chiaro 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 Sì stiamo Fornendo dati di allenamento E AI per faccia Che consigliano Shitcoin Speriamo di no Però in realtà Sì Però in realtà Sì Questo è il problema Ma ai tempi Quando c'erano i video Di Elon Musk Che consigliava Di investire Nella CryptoX Gli audio Mi sembravano Pezzi tagliati E rincollati Non era questo Livello Di qualità Sì Quelli Erano pezzi veri Però Messi all'interno Di una finta live No? Mi sembra fosse Anche perché In teoria Avere Un'assistente vocale Con la tua voce Che fa auto reply Di alcune cose Sono feature Che su cui stanno lavorando Davvero Per essere utili In molte aziende Sì Per rispondere Ai call center Per esempio C'è un'applicazione Per evitare gli scam Quando ti chiamano Al telefono Che risponde Con la tua voce Anche Addirittura Mi sembra sia La T-Caller L'azienda che lo sta facendo Non vorrei Non vorrei sbagliare Quindi La R-Mosha Sarà la spunta Esatto Quello sarà difficile Da replicare Effettivamente Devono Devono essere specifici Ho un TIC Uno ogni tanto Tipo che fai Ogni tanto Potrebbe essere Un marchio di fabbrica Non prevedibile Fantastico Dobbiamo cominciare Ti ricordi Quell'idea Che abbiamo avuto Secondo me Un giorno Quello diventerà Diventerà un business Dei video Riuscire a trovare Un hash Che ci permetta Di identificare I video certificati Però Quando parli E del contrario Sei tu Che hai l'honor Della prova Sei tu Che devi provare Di non essere Un Un chat Fantastico I servizi di streaming E ogni tanto Ti compare Tipo il nome Il numero Utente a schermo Così che se lo stai Trasmettendo In maniera pirata Vieni schiamato subito Fantastico Fantastico Però Diciamo che Non so Probabilmente non per questo motivo Ma C'è una testa Che è caduta Aia Aia Da OpenAI Infatti Se ne sta andando Il co-founder E chief science Officer C-S-O 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 I-L-I-A I-L-I-A Non lo so Penso sia I-L-I-A Però Che cazzo di nome Complicato Chiamiamolo Gigi 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 Se ne va Lui era Era venito Era divenuto Famoso Alle cronache Perché A novembre Era stata Una delle persone Che aveva votato A favore Della rimozione Di 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 Sam Holtman Da OpenAI Come CEO Quindi Probabilmente Questa è un po' Anche l'onda lunga Di Quella Debacle Che c'è stata Di cui ci siamo dimenticati Praticamente tutti È durata un quarto d'ora C'è stata una Ragazza Che è stata CEO Per un giorno Forse Sì esatto È la CEO Più breve Della storia E Effettivamente Quello è stato Particolare Ho visto Che è andato Dal Sam Holtman Dall'Olin Podcast Per parlare Gli hanno fatto un po' Di domande Anche su questo Se non sbaglio Però è stato Molto Politicamente corretto Da quello che ricordo Quindi ha detto Stiamo lavorando Su temi molto Complicati È difficile Comunque stimo Tutte le persone Nel nostro board Quindi Diciamo Non Non c'è stato Molto Eh ma pubblicamente Chissà poi dietro Che Che spadate Che frecciate Eh no Chissà dietro Che succede Tutti questi Investitori Della Silicon Valley Super liberal Insomma Diciamo che Tendono a Avere Una certa ideologia Che Va sempre Nella stessa direzione No Ormai Penso che sia Cioè Stiamo facendo Politica Tommy No No Politica La stanno facendo La stanno facendo Loro Ai 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 Orca miseria È uscito Questo Quest'articolo Interessante Chiaramente Tutti Tutti È Elon Musk Che guida Questa Questa transizione Ormai Eh sì Forse è stato Elon Musk Il primo A pubblicamente Spingere tanto Su questa Su questa ondata Fondamentalmente Quello che Quello che si è visto È che Gli investitori In Silicon Valley Storicamente Sono molto legati Alla sinistra Al mondo Liberale Libero Perché la California È uno stato Completamente Di sinistra È uno di quegli stati Che dai Diciamo Per garantito Come uno stato Uno stato blu Eppure Il presidente È stato a lungo Schwarzenegger Che non era Trovo una forma Di civiltà estrema Gente che vota La persona Nonostante Non era rappresentante Di quella La politica Sì sì Quello sì Ma lui Comunque Diciamo In America Ti devi affiliare In qualche modo A un partito Però Mi è sempre Sembrato Abbastanza Apoli Cioè Repubblicano Però Repubblicano Molto particolare Certo Non era contro Gli immigrati Anche perché Lui stesso Non è americano Quindi No sì Non penso proprio Se è americano Però sicuramente Non è nato in America È nato in Austria Esatto Però è naturalizzato Americano Quello potrebbe essere Stato un'intensa Immagino che ad oggi Sarà naturalizzato Certo Sì E quindi Fondamentalmente Un articolo In cui si parla un po' Di questo Cambiamento Mark Andresen Che è Founder di uno Dei fondi più Importanti A16Z Andresen Horowitz Non ho mai idea Di come pronunciare Quello Andresen Horowitz A16Z 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 È un po' strano Vabbè Ciamat Palipatia Che era diventato Diciamo Conosciuto Per il suo ruolo In Facebook E poi Esatto Più conosciuto ancora Per il suo ruolo Nelle SPAC Per la sua presenza Nello Lean Podcast Tutte queste attività Che nessuno Ne parla più Delle SPAC Vabbè Ok Sì Non è il momento Diciamo Delle SPAC Assolutamente Hanno avuto Un po' di problemi Reputazionali E poi anche A livello macroeconomico Non è esattamente Il momento migliore E quindi Hanno cominciato A criticare Biden Diciamo che È un target facile Anche perché Si muove talmente lento Che lo prendi Proprio Fisso Però Diciamo che Se c'era una trama Per far tornare Trump Era Questa era la migliore Come dire Se veramente I democratici Dovevano Di cosa possiamo fare Per far tornare Trump al governo Facciamo quello Che stiamo facendo Sì 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 Tra l'altro Quest'articolo Comincia proprio Con la citazione Di Sachs Che anche lui Famoso investitore Molto concentrato Sul mondo Sass È stato uno Dei primi Che ha spinto Tanto Su Diciamo Le meccaniche Dei software As a service Che conosciamo oggi E Lui Lui stesso Aveva detto Ok Dopo quello Che è successo Il 16 gennaio Il 6 gennaio Quindi Quello che sappiamo Insomma Le rivolte A Washington Trump Non è più Un candidato Presidente Plausibile A quanto pare Anche lui Ci siamo Dimenticati Ci siamo Dimenticati Del colpo Del colpe Dei poveracci A gennaio Cavolo L'attacco a Capitol City Sì Sì Ma beh Ok Il capitolo È stato Un momento Beh Forse L'abbiamo Voluto Rimuovere Dal Cringe Più cringe Della storia Sì E beh Questa persona Mi trovo Più in disaccordo Con Biden Che con Trump E vediamo Insomma Cosa succederà Diciamo che sarà Una Lotta per la presidenza Quest'anno Che guarderò Con Non so neanche se dire interesse Con Paura Sì è un po' triste Paura Sì è un po' triste È triste Cioè come dire Io ricordo L'ultima battaglia Diciamo per la presidenza Che mi ha entusiasmato Fu Quella tra Obama E McCain Dove entrambi Parliamo di ormai 2004 Forse No Obama 2008 Obama è entrato La prima Sì la prima elezione di Obama È stata 2008 Quella contro McCain Che fu Tutte le parti Ci furono parole spese Per la qualità Di entrambi i candidati E a sto giro Ci abbiamo Sì anzi Tecnicamente penso Biden contro Trump Può essere il 2007 Il voto E poi è diventato il 2008 Non lo so Vabbè Ok E Peter T E addirittura Invece Che è sempre stato Storicamente Repubblicano Ha deciso Di non Di non Seguire Questa Questa Campagna Ecco Peter T Mi ricorda un po' Chi era De Niro C'era un attore Molto famoso Che Era apertamente Repubblicano Ma da decenni Forse non De Niro Ma Vabbè comunque A Pacino Non lo so O forse anche un regista No È il regista Quello di Gran Torino Chi è? Che non Torino Il regista Disconoscimento A Clint Eastwood Clint Eastwood È stato forse Uno dei primissimi Attori Della nuova Hollywood C'hanno bombardato Che Che si è dichiarato Repubblicano Peter T Forse è stato anche Possiamo trovare un parallelo lì Poi appunto Ha aperto le porte E sicuramente adesso È una cosa più Più comune Anche se Vieni sempre un po' mal visto Secondo me Se come attore di Hollywood Ti dichiari Apertamente Repubblicano Senza remore Ok Ok E niente Quindi Sarà Sarà triste Da vedere Questa Sarà triste Sì Battaglia Però Qualcuno felice in America C'è Ho scoperto Chi c'è? Qualcuno è felice in America Come osano? Sto finalmente festeggiando Cioè? Beh Che è successo? Cos'altro è successo a novembre? Vediamo un po' A novembre 2022 Boh Ricordo C'è stato un tonfo nel mondo cripto Il bottom del mondo cripto Che ne so È saltata FTX È saltata FTX C'è stato un sacco di contenuto Per il nostro tabellone Sì infatti Sam Bankman Freed in prigione Al Gabbio Hanno perso un soldi Un sacco di persone Fu un disastro E quelle persone però oggi Un pochettino festeggiano Perché A quanto pare Potrebbero ricevere di nuovo I loro soldi indietro Oh Che bello Che bello Che bello Che bello Vuol dire che alla fine Vedi Era un benefattore Sam Bankman Freed L'altruismo Ah io ho fatto una riflessione A riguardo Cioè FTX è saltata nel novembre 2022 Se vedi il prezzo di bitcoin Era il minimo Il bottom Se questi riuscivano A non farsi dalla spallata Da Binance Da CZ In quei momenti là Quindi stavano in crisi di liquidità Ah perché tutti gli asset che avevano Erano super Sottoprezzati Avevano un prezzo casualmente basso Se riuscivano a nascondere I cocci sotto Il tappeto Per un po' Con le cripto che ripartivano su Ecco che Il loro balance sheet Andava in positivo E oggi staremmo parlando Di genio Sarebbe stato un genio Ha ricevuto la margin call La bank run Nel momento peggiore Guarda che sfiga Va in leva E poi Il prezzo va giusto Un centimetro sotto La margin call E poi rimbalza Però Qual è successo Sicuramente sarà successo Che comunque I depositi bloccati In cripto Hanno ripreso valore E ora Sono sufficienti A coprire i danni Guarda Ti faccio Ti faccio un parallelo Al contrario Secondo me È la versione più sfigata Di Michael Burry Quello della Bolla del 2008 Che da allora In continuazione Chiama Qualsiasi crisi Possibile Immaginabile Però La volta in cui Importava Gli ha detto bene E quindi Adesso lui è diventato Guru della finanza Ormai è un meme Ormai è un meme Perché sono altri 15 anni Però la cosa fantastica È che a quanto pare La gente riceverà i soldi indietro O quantomeno È notizia fresca Con interesse Ci stanno abbastanza soldi Per restituire La cosa che immagino Sia successa È che gli asset Che erano sequestrati Erano tutti quanti in cripto E hanno preso valore Mi immagino E quindi Chi comunque Al momento Del fallimento Di FTX Aveva Un deposito In cripto Non riprenderà Quelle cripto E prenderà l'equivalente In dollari Cioè per fare un esempio Credo che sia così Però è il pensiero Che mi viene in mente Perché Da first principle thinker Tu avevi Che ne so 10 bitcoin Che a suo tempo Valevano 160k dollari Però in cassa Ce ne avevano solo 5 Questi qua Perché avevano Magheggiato E quindi Sono saltati Adesso hanno ancora 5 bitcoin Però valgono 4 volte tanto Quindi hanno i soldi In contanti Da ridare a te In contanti In dollari Frizzati Al momento Del fallimento Esatto Esattamente quello Che succederà Allora Per fare un recap Tutte le persone Che avevano Meno Di 50.000 dollari Come Debito Anzi come credito Nei confronti Di FTX Verranno rimborsate Quindi quelle che ne avevano Più di 50.000 Si attaccano Con interessi Quindi riceveranno 118% Del proprio Claim Quindi qualcosina Gli tronzi Che invece Ci avevano creduto Molto di più Si erano fatti Convincere Da Steph Curry A mettere 200.000 euro A fare canestro Con Con la Basketball Coin Non riceveranno Nulla E I I I clienti Verranno Rimborsati Con Il Cash Value Delle Cryptocurrency At the time Of the collapse Come ho detto io Esatto Quindi nonostante adesso Avendo avuto Tutti quanti investiti In bitcoin Loro avrebbero Avuto Tre volte Il prezzo Dell'epoca Adesso Neanche quattro Perché dai conti Che ho fatto io Vendo il grafico Siamo quasi a quattro volte Comunque Peccato Grande notizia Per i risparmiatori E comunque Grande notizia Per il mondo Perché abbiamo scoperto Che il Delaware Esiste anche Non è soltanto Una sede fittizia Di ogni azienda Che c'ha sede in America Ma c'è Bank Bankruptcy court For the district of Delaware Che sarà tipo L'ufficio più importante Del Delaware Sì no In Delaware Ci sono più aziende Che abitanti Quindi Direi che Quello sicuramente Da seguire Ah qua addirittura Ci dice David La nostra nuova fonte Poi vediamo insomma Se fidarci di David o meno Però no Dice Quelli con 50.000 Riceverà O più Riceveranno interessi Ancora più alti Ma in più tempo Ma in più tempo Se stiamo cliccando Entrambi sono stessi Vediamo Vediamo Allora potrebbe Potrebbe essere interessante Diciamo che Sì fondamentalmente Una buona notizia Quello che sarebbe stato divertente Ne parlavamo Ne parlavamo prima Era Pensare Ma Io sono un Bitcoin Maximalist E dico No ma Bitcoin È una valuta Io voglio che mi vengano Date le Piace Per la legge Non è Per la legge Sei un giocattolo Anzi Che ti riconoscono Che abbia un valore E poi Anche altra cosa Divertente A cui stavo pensando È Ma Facciamo finta che Di questi soldi Che verranno ridati indietro Attenzione Joe Biden È del Delaware Sì sì Lui se non sbaglio È del Delaware Ok L'ho stato più inutile In assoluto Infatti Insomma Deve trovarsi Qualche vicepresidente Che abbia Stati importanti Di nascita Forti Non vorrei fare Una gaffe Però mi sembra Che lui sia proprio Del Delaware E E la cosa che Diciamo Mi veniva in mente È Tu immagina La persona che sta gestendo I conti di FTX E dice ok Adesso devo Scaricare Tutti quanti Dogecoin Che ho Per dare il valore Diciamo Il controvalore Agli utenti Il valore Di tutte quelle shitcoin Che devono Lasciare andare Crolla Cioè Come funziona L'hanno già fatta Questa cosa Beh se l'avessero già fatta Non ci sarebbero soldi adesso Cioè Non penso Cioè se l'avessero già fatta Al momento della liquidazione Ok ragazzi Se lo facciamo Adesso Due settimane fa Se lo facciamo ora Abbiamo abbastanza soldi Per ridare soldi a tutti Probabilmente Esatto L'hanno fatto in maniera silente Hanno liquidato un po' alla volta E Se no Se lo annunciavano Poteva essere un'informazione Sfruttabile Esatto Non so bene Che impatto Non so bene l'impatto Dai Sulle major crypto Non penso Abbiano avuto un grande impatto Sì Major crypto No Però altrimenti Tra i Elon Musk Dei noi altri Sì Dici Tesla accetterà Bitcoin Oh no Tesla non lo accetta più Sì Potrebbero aver fatto Non lo so Alla fine chi è il curatore Fallimentare Non è che è interessato Anzi che Sono tenuti Asset Digitali Immagino sia stata Una Un'allungaggine Sistema burocratico Quando hanno sequestrato Le cose I vari wallet Il liquidatore Ci sono mesi O un anno Per trovare Se no Un liquidatore normale Avrebbe venduto subito Tutto lo che rimaneva Per raccattare qualche soldo Invece per fortuna Che l'eventuale liquidatore È stato lento E per loro fortuna Le crypto sono risalite Adesso si sono trovati Che hanno più soldi Per pagare Però è Ogni tanto A me ancora brucia Il fatto che Se questi avessero Se Zao Se quello di Binance Non avesse dato La spallata SBF Oggi Questi erano I cartelloni Come benefattore A lui E alla tizia Di Alamida Research Sì C'è gente Che ci sarebbe Fatta la pensione Con i risparmi Che hanno fatto Lì sopra Non lo so Poi ovviamente Diciamo che È discutibile Avere la tua pensione In In certi coerenzi È meglio averle Diciamo Non lo so Non vogliamo fare La mia pensione Beh Non so La pensione È meglio Meglio avercela In un posto sicuro E' più qui in Svizzera Abbiamo dei fondi pensione Che sono fantastici Faccio subito Il mio saldo Perché io Vi chiedo che Dove essere più trasparente Vado su AX E mi loggo un attimo Dentro Scusate ragazzi Perché ci tengo Non è pubblicità Questa qua Che È che Non so Per tempo Perché non mi logga Ancora Tommy Aspetta un secondo Si si Non ti preoccupare Sarà comunque Un servizio Pesante Da caricare Riscontrando qualche problema Potrebbe Vediamo un po' Perché mi dice Che ho asset zero Tommy Che cazzo sta succedendo Dice che ho perso Tutti i fondi pensione Eh Ma io c'ho un mezzo Possibile Aspetta Vediamo anche Finpension Abbiamo problemi Zero Che cazzo succede Ma dove Ma C'è un hacker C'è un hacker Ma ti pare Ma Tutte e due Finpension È tutto in cloud È tutto in cloud Tommy È tutto in cloud Allora Allora forse Forse sì Aspetta Cioè Che vuol dire Google cloud Google cloud Ha Cancellato Unisuper 135 billion pension account Detail Sono stati cancellati Da google cloud Perché un cazzo di casellante Ha sbagliato a preme Licenziate la gente Licenziate la gente Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Questo è il nuovo prodotto Che hanno inciso Vedevo quella cosa dell'occhio E qualcuno Se ne era accorta Sì 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 Questo è il nuovo prodotto Che hanno deciso Di uccidere Prima di tempo Dopo C'era uno Che doveva fare Shutdown Di google podcast Ma ha sbagliato E ha fatto Unisuper Che però era Un account in cloud E hanno brasato 135 billion dollars E tra l'altro Qua dice Sotterrato Sotto le news Del google I.O. Google Il biggest Blunt 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 era tipo Lo spreco Lo sbaglio L'errore Sì sì esatto Lo stavo capendo Perché citava AWS Ma intendeva dire Che era il competitor Di AWS Ha accidentalmente Cancellato Un enorme Account Un account Unisuper Un Australian Pension Fund Che gestisce 135 billion Tipo il doppio 650 mila membri Mamma mia Sarà divertente Vedere come hanno fatto A fare recovery È iniziato Il 2 maggio E ci ha messo 13 giorni Per essere sistemata Questa cosa Mamma mia Ora Unisuper Su website Is now full of Must read Admin nightmare Fantastico Fantastico Quindi niente Quindi da me AXA funziona ancora Filmpension funziona ancora Va tutto bene ragazzi Ho ancora la mia pensione Se ci sarà una pensione Sì Vedi hanno fatto addirittura Uno statement Congiunto Il CEO di Google Cloud Ma sì Capita Capita Ma forse hanno Forse hanno detto Che adesso Le gestiva le AI Sono 150 billion Non 15 milioni Un po' C'è 4 zeri in più Lo gestiva le AI I fondi di pensione O pensi che Google Non affiderà Alle AI Diciamo Dei prodotti Così Importanti Così delicati Beh adesso In Google Le AI È la parola chiave Per tutto Per le più fondi di pensione Non lo so Stanno facendo video Con le AI Abbiamo visto Cercano di fare Un assistente Con le AI Non lo so Probabilmente Già ads Un po' Funzionano Le AI Cosa è rimasto Giusto Google Search Rimasto che è puro Vergine E abbiamo risultati Che vengono Da un algoritmo Chiaro Che No Non più Cazzo Pure questo Ah sì From AI overview To automatic Categorization Google sta portando Le AI Praticamente In ogni parte Del processo Di ricerca Ma perché Vabbè Eh no Allora devo dire L'algoritmo Era già AI Ok vabbè L'algoritmo Ormai Gli algoritmi Quando io lavoravo Negli algoritmi Di ranking In shopping Eravamo l'ultimo baluardo Che non usava AI C'era un algoritmo Proprietario Tipo un page rank Molto modificato Con segnali vari Ma c'era già un team Che stava portando Verso puramente Machine learning driven E poi So che ad oggi L'algoritmo Di selezione È quasi tutto Machine learning Però non c'erano Cioè è come dire L'algoritmo Di selezione Di top risultati Ora le AI Entrano in maniera Più invasiva Entrano dei box Con varie cose Si Find the best yoga Pilates Diciamo Il problema poi qui È anche Proprio Monetario Cioè Ricordiamo tutti Immagino Quello che è successo Quando Google Ha deciso Che Si sarebbe messa A fare anche Da azienda Che ti dice Il meteo Azienda Che ti dà Le news Azienda Che ti fa La calcolatrice Che ti dice I testi Delle canzoni Soprattutto Quello è stato Lo scandalo più grande Forse Quando Google Fa queste cose Utilizza Dati Informazioni Di Aziende terze Wikipedia Rubando i business Perché poi Se io Ho il meteo Dentro Google Search Non vado a Cliccare su AccuWeather Ma lo vedo Questo è un buono Spunto di discussione Ci fu una polemica Google News Che montava Snippets Di giornale Molti in Europa Molte nazioni Con i loro consorzi Si erano incazzati Tipo la Spagna Ricordo Anche l'Italia Ma la Spagna Soprattutto Io ero in Google Con le successe Che I sindacati spagnoli Dei giornali Hanno detto Basta Google deve pagarci Se vuole mostrare Le snippets Dei nostri giornali Google ha fatto Vabbè ragazzi Ok Io non mostro più niente E i click Sui giornali Sono cronati Del 90% E hanno chiesto Pietà a Google Di rimettere Quello sì Però l'esempio Di Google News Secondo me È leggermente diverso Quello Diciamo L'esempio più Clamoroso È stato quello Di Lyrics Quindi se io cerco Per esempio New Roots E a chi sta rubando Business Secondo te Allora Voglio sentire La canzone Di Dua Lipa E fondamentalmente Adesso Google Ti mette tutta La lyrics Già in search Quindi tu non vai più A cliccare su Genius.com Vabbè Però chi se non cula Genius.com No Perché prima Prima Loro erano i primi risultati Ricerca Quindi tu cercavi Lyrics Di questa canzone E andavi su Genius.com Tanto è vero Che loro hanno fatto Causa Google Perché sono riusciti A incastrarla E a dimostrare Che Google Faceva Scraping Dei loro testi Questo è brutto Chiaro L'hanno fatto in maniera Molto intelligente Forse ne avevamo anche Già parlato Questi apostrofi qui Hanno cominciato A metterli In maniera diversa E strategica Che non aveva però Un senso logico Al di fuori Di quello che stavano Facendo loro No Era un tipo Dei fingerprint Per vedere Per dimostrare Che Google Stava copiando Il testo Dal loro sito Google ha fatto Lo stesso con Bing Lo sai Questa è una storia Che forse Era quanto anni fa C'era un'accusa Adesso Non vorrei parlare Il nome di nessuno Ricordo C'era questa leggenda Metropolitana Che qualche volta Bing Andava Sto facendo Cerca su Bing Andava a cercare Su Google E poi in qualche modo Pigliava i stessi risultati Rispostava un pochino Usava Google I risultati di Google Come segnali Per i propri risultati E Google Ha messo Delle query specifiche Del tipo Se tu cerchi Una stringa Che non ha senso Ti risponde Con degli articoli Che non hanno senso Che però sono Hard coded No? Se io cerco Una stringa Di 20 caratteri Perché magari Bing Per cercare su Google Faceva site Due punti Cioè Una roba Del tipo Se tu cercavi La stessa stringa Che non aveva senso Su Google Ti dava dei risultati Che erano Hard coded By Google Tipo Se la stringa Contiene questo testo Ah ritorna Un video di gattini Che però Non c'entra niente E la cercare La stessa stringa Su Bing Ti dava lo stesso Video di gattini Che era palese Evento Andare a vedere Un po' Cosa fa Google Ah Da questo video di gattini Su questa stringa Diamola anche noi Forse un senso Ce l'ha Quindi Ottimo Ottimo Quello che Sta dietro a questa cosa Che ho appena mostrato È quello che in Google Si chiamava Il knowledge graph Cioè tu avevi Per delle keyword specifiche Avevi tutta una sorta di Diciamo di Metadati Che mostravi Nei vari panel Quindi se tu cercavi Barack Obama Ti dava la data di nascita Pezzo di Wikipedia Era un modo di Google Per darti i migliori risultati Possibili Ora però Dove li va a prendere Sti risultati È interessante Se li va a prendere Da Wikipedia Non si incazza nessuno Anche perché Google Finanzia la Wikipedia Se dipende da un sito privato Stai rubando soldi Però stai rubando soldi Però quanta pubblicità organica Ti ho portato a Gradi È un po' complicato Sai che è molto complicato Allora secondo me Loro adesso Questa parte delle lyrics Per esempio Le prendono da Music Match E qua dicono Fonte Music Match Che tra l'altro È una azienda italiana Quindi Ok sì Penso che paghino Abbastanza sicuro che paghino Quindi Da quel punto di vista Insomma Mi sembra una transazione Di business Che per Per tutte e due le parti Ha senso Anche se Secondo me Anche qui Prima o poi Anzi Già sono uscite delle cose Qualcuno dirà Ehi Google sta sfruttando La propria posizione Di monopoli Sulla search Per Trarre Vantaggi di altro tipo Anche se Pochi vantaggi In realtà Ok Diciamo che Questo è l'unico argomento valido Sì Il fatto che sei un monopolio Perché sennò anche L'argomento Eh ma guarda Genius.com Era Il primo risultato organico Però anche lì Chi Non è garantito Quello lì è Google Sì Certo Quindi questo diciamo È un tema Sul discorso AI In realtà Leggevo un articolo Forse parlava Di perplexity Che Ha un po' L'idea di diventare Il motore di ricerca AI Che nativamente Inserisce anche Tantissimi link All'interno delle risposte Che ti dà Diceva che in realtà Con questo meccanismo Era aumentato Il numero di persone Che poi andava effettivamente A leggere l'articolo A prendere informazioni Però Sai Non è Non è così banale Come Come correlazione No è chiaro È chiaro Poi Se parliamo di una snippet Di un articolo Tu spesso Devi leggere il resto Se mettiamo tutto il contenuto È un po' difficile Tu poi ci vai a cliccare Da utente Sono contento Se cerco un testo E Google Mi dà direttamente La lyrics Il risultato Invece di Come dice qua One Peggle Non mi fa Grazie Google Che non mi fa Aprire il sito Per chiudere Mille pop up Per un testo Sì è vero Sì sì Quello assolutamente Puoi dare la location A questo sito Cookie Preve si può Si scrive la newsletter Da affanculo Va Cerco 40 byte Di informazione Sì 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 Quello assolutamente E poi appunto C'è questa Diciamo Questo discorso Sul La parte di AI Generativa All'interno di Google Search Ha parlato La tua amica Liz Oh Oh Liz Raid Oh Era Mamma mia Elizabeth Amon Raid Era Director In Local Search Ai tempi in cui Stavo in Google Maps Quindi a decina D'anni fa Di più anche E ricordo Le sue battaglie Sulla privacy Il privacy Working Group Di Gio Guidato dal buon Marco Dosoni Battaglie Sulla privacy In che senso Proprio Non voglio dire Cosa diffamatoria Ricordo solo Che quando C'era il privacy Working Group In Gio E c'era Marco Dosoni Che era il responsabile Di privacy In Gio In Google Maps E c'erano Due director Molto aggressivi Il capo Di location Quello che voleva Utilizzare i dati Di GPS E Local Search E Liz Era il capo Di Local Search E diciamo Che è una bella Battaglia interna Tra il privacy Working Group Che doveva Difendere gli utenti E questi director Un po' spregiudicati Che volevano passare Col macete Sulla privacy Degli utenti Per cui Ricordo Liz Raid Ci ho avuto a che fare Personalmente E è diventata Mi sembra Vice President Di Web Search Sì Ok Sono sempre i migliori Quelli che Salgono Sì Ok Mi dissocio Mi dissocio Da me stesso Stanno sperimentando Questa Questa funzionalità Beh sì Mi sembra interessante Chiaro Diventa anche Il costo Comincia a diventare Importante E non è solo Il costo Adesso Immaginiamo una Google Con I risultati Di ricerca Che sono Anche Generati Tramite EA generativa Non solo A Google Costa 10 volte Di più Creare Risultato Di ricerca Tramite Gen AI Rispetto a Semplicemente Mostrarti Le pagine web Ma poi va Anche perdere Soldi Da chi Fa le ads Di Google Ci sono Queri Dove la gente Paga 10 euro Per click 15 euro Per click 20 euro Per click Secondo me Purtroppo C'è questa AI frenzy E devono partecipare Tutti E Google Non può Star fuori Quindi deve Far qualcosa Che però Oggettivamente Potrebbe essere Controproducente Però qual è? Che se non lo fanno Gli altri Già oggi Già Google Ha avuto uno Slash Monstruoso Della Crescita Sulle Query Quando la gente Comincia a cercarle Altrove le cose Tu vai su Amazon E cerchi un prodotto Non lo cerchi su Google Vai su Facebook E cerchi così là Per cercare altrove Se adesso La gente cerca Su Chargipit E non cerca Su Google Le cose Ti perdi Un sacco Di utenti Devi servirli In qualche modo Ti costa Molto di più Perché essere Generativo Ci metti più tempo È un processo Neanche real time È ovvio Che non intercetti Tutte le query Ti prenderai Soltanto alcune Che sembrano Valide Da rispondere In maniera Generativa Chissà Come integreranno La pubblicità Nelle risposte Generate Sarà una merda Sarà una merda Immagina chiedere al bot E il bot Vorrebbe rispondere Ma poi In modo hard code Perché poi comunque È un modello Black box Come gli dici A un certo punto Dopo due frasi Mettici una marchettina Come fai? Farò fisicamente Sì Sì Non è Non è facile Qui Addirittura Continua l'intervista C'è un bilanciamento Tra creatività E la fattualità Va bene Grazie Lo andremo Molto di più Verso la fattualità Va bene A sapersi Anche perché Sto cercando qualcosa Quindi mi interessa Quello Totalmente Dipende che stai cercando Perché il modo di ricerca È diventato Un assistente testuale Ma diventerà Sempre più assistente Stai cercando qualcosa Di specifico O stai chiedendo Una domanda aperta Sarà molto più interessante La query categorization Cioè cercare di capire Che tipo di query è Se cerco un buon ristorante Dove mangiare Va bene Nel vecchio mondo Se cerco Quando è nato Barack Obama Va bene Nel vecchio mondo Knowledge card Perfetta Se cerco Come è meglio Organizzare Una vacanza estiva Magari esce Il chat CPT E tra un tutta via E l'altro Li mette Vedi gli hotel Vedi i voli Vedi le cose Non lo so Sì 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 Quello Secondo me L'obiettivo di Google È assicurarsi Che non perdano Troppi tipi di query In questo momento Di transizione Cioè assicurarsi Che ok Cerchiamo di Non far spostare Le persone Da Google Ad altri posti Come è successo Con Amazon Quando si sono messi A cercare Lo scottex È chiaro Ma se però Li tieni dentro In un sistema Che non spendono Soldi la gente E a te costa Un sacco Servirli Sì Vale la pena Ne stampa Abbastanza Di soldi Però Lo so Ma ti dico Che hanno cominciato A fare lay off E a dare dividendi Perché hanno avuto Problemi con gli investitori Gli hanno detto Ehi Le revenue salgono Ma il costo Il costo Le revenue Sale anche quello E quindi Non licenzierebbero Se non avessero Se non gli interessasse Anche il cost cutting Ora che ci penso A questo discorso Del AI generativa No In realtà Perché non danno La stessa risposta Potrebbero dare La stessa risposta In continuazione A chi fa quella query La maggior parte Delle query Oddio In realtà no Penso La maggior parte La stessa query Identica Esatto Cioè tu No Non accadeva già prima Cioè già prima Era difficile C'era una gigantesca Look up table Tra parole chiave Però le query più complesse Sono un po' più difficili Cioè vai C'era AI anche lì Prendi N La query veniva manipolata Tolte le parole inutili Tokenizzata E sparata In input All'algoritmo Che tirava fuori Real time Risultati Non generativi Ora sarà Molto interessante Non penso Che possa dare La stessa risposta Se fai domanda Più volte A questa domanda Cioè È ovvio Non è garantibile Sì no Sarebbe un meccanismo Completamente diverso A quel punto Effettivamente Non C'è il buon Mario Dose Le fasi Per procedere Con il forretto Farsi una query Neanche no È fantastico È una domanda Fesca Rinfrescante Sì Mi sembra Sì Potrebbe essere Una buona Oppure Ti dice Compra Compra La bara Da Taffo Da Taffo Che adesso Mai più Morti così bene Fantastico Sì 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 Quello potrebbe essere Potrebbe essere La nuova frontiera Del Di search E così come Google Si sposta Da risultati A generazione C'è un'altra azienda Che sta facendo No ti prego Un pivot Voglio qualcuno Che fa il passo Inverso Alcuno dice Cazzo ragazzi Prima generavamo cose Adesso vogliamo dare Risultati deterministici Era un parallelismo Molto forzato Per collegarmi A un altro topic Che non c'entra niente Quindi l'AI Non è parte Di questo segmento No c'è Netflix Che si sta spostando O comunque Sta andando molto Verso i contenuti In streaming Rispetto Cioè scusa I contenuti In diretta Rispetto ai contenuti On demand Quindi hanno acquistato I diritti Per la WWE Come abbiamo visto Qualche mese fa Avranno Avranno acquistato I diritti Per vedere in diretta Che cosa Vediamo se qualcuno In chat ci prende Però Sembra che la direzione Sia quella Hai detto WWE Cos'è Wrestling Che è stato Un affare Che hanno fatto Già Sì forse Tre mesi fa Cioè chi dice Calcio Calcio Allora Hanno fatto Qualcosina Nel mondo del calcio Però questa è una notizia Invece più Più nuova Ah è vero Hanno fatto qui Dicono Parla anche di Tyson Se non sbaglio Streameranno L'incontro di box Tra Tyson E Jake Paul Ma è vera Sta cosa Ma succederà Sì 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 È vero Ma cosa ha 60 anni Ma chiaramente Quelle botte Non sono così sicuro Probabile Cioè Prenderà botte E' vero Zuckerberg Contro Contro Elon Musk Ok Vabbè Esiste No Quello Non lo so Come andrà a finire Magari poi Diventerà tema Anche questo Del Del tablerone Sicuramente C'è chi dice Europei Wrestling NFL Ci hanno preso Ci hanno preso Ci hanno preso C'è chi ha preso Parlare dell'NFL Sì 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 Era NHL Ah no NFL NFL Allora Questa è diciamo La notizia più Più recente Hanno fatto tante cose Lato streaming Però Football Joins Pro Wrestling And Comedy Specials Mentre Netflix Cerca di Aumentare La propria Offerta Di contenuti Live Quindi Diciamo Che c'erano Già vari Servizi Che si sono Spostati In questa Direzione In Italia Amazon Prime Video Aveva la Champions League Se non sbaglio La stessa NFL Era su Peacock L'anno Scorso Quindi Diciamo Sicuramente Continirà Secondo me Hanno visto Che i contenuti Di sport Documentaristici Andavano Una bomba Io stesso Sono uno Di quelli Che si è appassionato All'NFL Dopo che ha visto La serie Sui quarterback La formula 1 È uno sport Che è stato salvato Dalla serie Di Netflix Praticamente Da un punto di vista Di rilevanza Mediatica Sì In Italia Dazon Aveva l'NFL Ma Dazon Per me È un discorso a parte Perché Dazon È solo Streaming Di contenuti Live Sportivi Quindi Streaming È un depende Chiaramente Però Hanno visto Che c'era tanta Traction Che potevano Monetizzare Quindi Ti sei visto Il documentario Su Michael Jordan E ti è piaciuto Perché non paghi Per guardarti Anche la season Anche la season Dell'NBA Arriveranno Penso Anche Anche lì Se questo Dovesse funzionare E quindi Infrastruttura Tecnologica Diversa Cioè C'è Se preparati Addirittura È una cosa È una cosa È una cosa Un po' Di nicchia Si è stato Così Tanto visto Fa pensare Anche perché Poi l'NFL È molto piccola Fuori dall'America Come Odinzi Ogni volta Che dica a qualcuno Che ogni tanto Seguo il football americano Mi prendono per pazzo Mi ho mai interessato Neanche lontanamente Sì 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 No È molto Molto Lontano Da Da noi Invece l'NBA L'NBA È quella figa Che mannaggia 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 I Dallas Maveri I Denver Nuggets Maledetti Stati eliminati Ci poteva essere Donchic contro Jokic In finale di conference Eh vabbè Però si guarda un po' Di Anthony Edwards Anthony Edwards pure Dai sta facendo Sta distruggendo Tutti Quindi Dai forza Luca Luca Magic Sono contento Perché ero l'unico Nel gruppo Del Del Fantasy NBA Che aveva Pronosticato La vittoria Dei Timberwolves Sui Denver Nuggets Quindi Non Sono di parte Sono di parte E infatti C'è speranza Anche per Tommy Su Netflix Domenica Domenica ho fatto La mia prima Paid gig Di Di stand up comedy Poi ho rifiutato i soldi Però Mi avrebbero pagato Perché rifiutato i soldi? No Perché Ho aperto lo spettacolo A Un amico Ma che figata Ma lo dici così Lo dici Raggiungere monetizzazione Per un'attività È il primo step Il primo dollaro È il più difficile Per cominciare a odiarla Sì esatto Adesso devi scrivere No no Tieni di tutto tu Tieni di tutto tu Così almeno È difficile Ci daremo Ci daremo Al chess boxing Questo Questo è vero Chess boxing Prima o poi lo faremo Un evento di chess boxing È diventato ormai Caramba che sorpresa Sì No ero curioso di sapere Quanto hanno pagato Per questo accordo Non viene detto qui Però mi sembra anche Un modo per continuare A giustificare L'aumento dei prezzi Perché lo streaming sportivo Costa un sacco di soldi Cioè Dazon quanto costa? 40 euro al mese? Che costa Non ne ho Manco voglio saperlo Non ne ho la piccola idea Costamente tantissimo E E quindi Magari dicono Ok Continuiamo a aumentare i prezzi Dei nostri abbonamenti Però se riusciamo a Se riusciamo a Upsell Gli abbonamenti sportivi Magari riusciamo a contenere Un pochettino L'aumento Se invece vogliamo Metterli tutti quanti inclusi Che penso sia La strategia di Netflix Magari riusciamo a giustificare Un pochettino Questo costo extra Pubblicizzando questo Servizio in più La gente A cui non interessa La forziamo a vederlo Glielo mettiamo in un page E' quello è il problema Ci sono contenuti Che comunque costa tanto Cioè Chi si fa L'abbonamento streaming A uno sport Perché lo segue E gli interessa quello E' come se mi vendi Cioè Entri nel ristorante Poi mangiare l'insalata Ma la paghi comunque Il prezzo della bistecca Perché potresti mangiare La bistecca Perché uno che è vegano E si deve Pagare il prezzo Del bundle Cioè perché Essendo una cosa Che in genere Costa molto di più Ma è solo di nicchia Perché io Che non me ne frega niente Dello sport Dovrei pagare Cifre alte È un ragionamento È un ragionamento interessante Qua dicono 75 milioni a partita Ok È un ragionamento interessante Però Su questi contenuti digitali Potrebbe Non Scalare Cioè potrebbe Non essere così valido Ti faccio Facciamo un esempio Magari io sono Sono membro di una palestra E la palestra decide Di mettere la sauna La sauna è una cosa ottima Per chi va in palestra È bella È una bella esperienza Però magari viene usata Dal 10% delle persone E il costo di costruire la sauna Mantenere la sauna È abbastanza alto Visto quanta gente Può andare in palestra Quindi magari Tu dici Preferisco non costruirla Perché il 90% delle persone Mi dovrà pagare Un abbonamento Più alto Per Però in quel caso L'impatto È molto piccolo E senza sauna Avresti risparmiato 5 euro L'anno di abbonamento Magari In questo qui Parliamo di un servizio base Che ti metto tutti i VOD Tutti i video on demand Le serie televisive E paghi 15 al mese E ti do Il servizio Ti dava da sauna 40 al mese Nei 15 Non è che posso Ancora 50 Cioè Non è la sauna Sto promettendo Un bordello Là dentro Però ecco Secondo me invece Comprare la partita 75 milioni A partita Ha un impatto minore Su Netflix Rispetto a La sauna In palestra Viene diluito Di più Quindi forse Puntano su quello Quello potrebbe essere Un po' Uccidono Cioè A fine riescono a fare Un prezzo più basso Di quello che fanno I singoli provider Per darti quello Che ti danno i singoli provider Più tutto il resto Beh se fai così Uccidono tutto Certo E magari si sono resi conto Che Continuare a espandere La parte di serie tv E film È complicato Perché Cioè Puoi produrne solo Fino a un certo punto Poi la gente Entrano Si cannibalizzano Tra di loro Ti rubano le serie Gli altri Eccetera Eccetera E E quindi hanno detto Ok la gente comunque Continua a guardare Gli sport live Continua a essere Uno dei trend Che In un modo o nell'altro Ancora non muore Ogni anno ci sono record Di spettatori Per Il Super Per la finale Di Champions E provano a A espandersi Verso quella direzione lì Eh Sono eventi Che vengono visti In contemporanea Da un bel po' Di persone Netflix Deve attrezzarsi bene Molto bene Quello sarà Quello sarà Una bella sfida Perché E soprattutto in America Su altri canali Non necessariamente Digitali nativi Nel senso che Vanno satellitari Vanno Cioè Come dire C'è sicuramente Un'infrastruttura Che Va oltre Vediamo Dazon L'ha visto In prima persona Dazon Quando ha cominciato A fare streaming Della serie A In Italia Qualche anno fa Era Era inutilizzabile Tutti quanti Si lamentavano Il Superbowl L'anno scorso Ha fatto 123 milioni Di spettatori In diretta Che Insomma È un numero Interessante Da gestire È un Mondo che Un pochettino Conosco E Per esempio Ho sentito Parlare varie volte Delle box Famose box Di youtube All'interno Dei centralini Non so neanche Se si chiamano centralini Però quelle Scatole Che si hanno Per esempio Per strada Che poi Far entrare La fibra Era Progetto Band-aid Tipo Come direi Il pacchetto Di salva Il cerottone Cioè Google aveva contratti Con gli ISP Aveva delle centraline Dei loro rack Con Con tutto Cashati I video più visti Però è una cosa Che ci vuole tempo No Infatti Infra struttura Good luck C'è chi dice Amazon lo fa Con la Champions C'è gente Vedo che sta scrivendo Sì E c'è già Beh adesso Mi sto domandando Su quei video Già cashati Di youtube All'epoca Quanto Qual è la percentuale Di Gagnam Style Quanti terabyte Di Gagnam Style Sono stati Cashati Su Mi aspetto I Cocomelon Vari O i Baby Shark No Baby Shark Devono esserci Proprio Terapeyte Che li prendi in mano E pesano Quanto Quanta Quanto Prima morirà L'universo Per aver Playato 20 miliardi Di volte Baby Shark O se tagli un cavo In fibra ottica Te lo guardi Quanti Baby Shark Arrivano Quello sarebbe veramente Interessante da capire Tipo L'impatto Sul Sul riscaldamento globale Del video La banda passante Di YouTube A un certo punto Era tipo Il 40% Di internet Porca Come numero Di query Era più basso Di web search Ma le query Web search Erano pochi byte C'erano pochi byte No Però erano Il video on demand Era forse Il 35-40% Dei dati Che circolavano Erano video di YouTube Di gattini Poi è arrivato Netflix Chiaramente Che insomma Avrà dato Adesso anche Sì beh Ricordo Forse Addirittura Parlo Di quando Ho fatto Il training In Google Nel 2012 Ci sono dati Di una vecchiaia Imbarazzante Però A un certo punto C'erano questi numeri qua E facciano ridere Sì 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 L'1 al 30% Del carico Disney Plus Mamma mia Wow Incredibile Capolavoro Capolavoro E tra l'altro Per chiudere Questo tema Streaming È uscita una notizia A quanto pare Per combattere Netflix Disney Hulu Che questo è come dire Tommaso E di Stefano Però va bene Sono Despacito Despacito Beh Che dire Despacito Che poi è meglio Perché così fa più caldo E quindi Despacito Te la senti Tutto l'anno Dai Finalmente Un bundle Quindi da Un milione e mezzo Di diversi provider Di servizi streaming Diventeranno Un milione Quattrocento Novantanue mila 1999 Dai Disney Hulu E Max E Max Quindi fondamentalmente È solo Disney e Max Perché Disney e Hulu Però vabbè in America Sono due cose diverse Max Non so cosa sia È quello di HBO Ok HBO Adesso è HBO Max Adesso è Max Prima era HBO Max Poi era Prima ancora era HBO streaming Poi era HBO Poi era Qualcos'altro È un brand fluido Decide Gli piace cambiare Quindi sì In un raro momento Di solidarietà Due giganti Dell'intrattenimento Si mettono insieme Per provare a Fermare Un charl rate Un po' alto Ok Questo effettivamente è interessante Perché tu dici La gente vince la Disney E poi si iscrive a HBO E poi quando finisce lo show su HBO Si iscrive a Disney Ci sta Ma ci sta Un comportamento razionale Dell'utente Che magari decide di vedere Finché parliamo di video on demand Disney penso che sia un po' più difficile Perché c'è chi Oddio Mi viene in mente L'utilizzo di Disney Plus Come famiglia Che ha bambini Che guardano cose Per cui difficilmente C'è ragazzi Ah per questo mese Dobbiamo guardarci Game of Thrones Scusate Voi adesso non vedete Questo mese Solo otto e mezzo Mi dispiace Ma Esatto E poi dopo torniamo Però tra servizi Diciamo più per un pubblico Non di bambini Ci sta Che io mi guardo Qualche serie Consumo una piattaforma E poi l'altra Mi c'è pagato Più abbonamenti in parallelo Sì sì Qui addirittura Ci sono dei dati Dice Il prezzo per iscriversi A questi tre servizi Al momento Sarebbe di 48 dollari Ok Aggregato Aggregato Con I piani con Yad 25 Però non dice Quanto costerà il bundle Che poi alla fine Ah ok Avete capito male Certo No 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 Is likely to cost less Grazie al cazzo Direi Aggiungerei con enfasi Esatto E poi dice addirittura Per la prima volta Disney Plus è stato Profittevole L'ultimo quarter Ok Interessante Non sapevo che non lo è stato Fino adesso No Disney Plus Ha sempre perso Un sacco di soldi Perché 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 a livello di Di IP A livello di costi di mantenimento del servizio Era molto Molto costoso Non era economico però Se non sbaglio costava più di Netflix No Ok Dico Non ho mai avuto servizi Per cui E poi l'altra L'altra cosa Diciamo Impattante Che probabilmente Non veniva calcolata Era che Vuoi o non vuoi Ti toglie Utenti Dal cinema Che era Una delle principali fonti di revenue Si è visto Che magari Il furto Dello streaming Dal cinema Non era così grande Però Un impatto sicuramente c'è Specie in anni Covid In cui Disney ha A volte senza senso Deciso di pubblicare film Che erano pensati per il cinema Direttamente Sulle piattaforme di streaming Lì Insomma C'è stato un impatto Importante Sicuramente C'è C'è Enrico Che ci mette anche un link Ma non facciamo il tempo A vederlo Sul fatto che Netflix Forse Aveva avuto Sul fatto che C'è entrato nelle centenine Che sono a pagare tasse in Italia Ma è figo però Figo Ah vabbè Potrebbe Vediamo ogni tanto Queste Il bundle Costerà Somma esatta E rappresenti Dubito Dubito No 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 Sarebbe Sarebbe abbastanza ridicolo Dai spero che non Però ecco Si vede che loro Sono un po' quelli Che devono recuperare spazio Per esempio Netflix È l'unica piattaforma Almeno Qui in Portogallo Ma penso insomma In quasi tutti i paesi Che non offre Bundle con I provider di internet Cioè L'avrete visto Penso quasi tutti Anche in Italia La team Che ti fa l'abbonamento Di internet E ti dice Per i primi sei mesi Ti do Disney Plus Incluso Netflix Queste cose Non le fa quasi mai Perché non ha bisogno Dell'extra market share Ti farebbe pagare Come ISP Il 100% Del prezzo retail Dell'abbonamento Perché tanto Ce l'avrebbero uguale E quindi dicono Sai che a questo punto Neanche lo facciamo Tanto la gente Viene da noi uguale Netflix Sai chi dice Invece con Sky Sky è un po' particolare Come realtà Però sì Ok Quello me lo posso immaginare Io non sono familiare Con il mondo italiano Però Sky Diciamo che in Italia È un po' un unicum Che fa un po' come vuole Anche con Dazon Ha varie integrazioni Quindi Sì Non stenta a crederci Bene 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 Cioè chi ha fatto addirittura Chiudiamo con questo qui Con il buon Vincenzo Che dice Mystery se interessa Conto della selva YouTube pesa 0,46 grammi di CO2 per minuto Gangnam Style Dura 4 minuti Arrondiamo 10.200 tonnellate di CO2 Quanti bambini sono? Perché c'era un altro Un conto di quanto costa Un bambino Mi sembra una cinquantina Di tonnellate Quindi Parliamo Vediamo Faccio 200 bambini Carbon footprint Calculator Mi sembra un po' poco Mi sembra un po' poco Due grammi No Questo non mi sembra un po' poco Però sì Sarebbe interessante capire In In offset Quanto costa Quanti Quanti Bambini dobbiamo sacrificare Alla Per compensare Bene Ce lo scriveranno Nei commenti Di questo episodio Del Fate i conti Fate i conti Fate i conti E niente Tommy Allora Tu rimani per un Q&A Per un Q&A No È già tardi È già tardi Quindi io Vi salutiamo Vi salutiamo Vi ricordo che stasera Alle 9 e mezza Ho intervisto Il buon The Bull Podcast Il buon Riccardo Spada E via Quindi chi vuole Stasera alle 9 e mezza Sui miei canali Bene E ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Buona serata Buon tablerone Ciao ciao Buon tablerone